La sconfitta di Brindisi, il prossimo impegno contro il Catania, una situazione che per la Virtus Francavilla non è delle migliori, la analizzeremo nel corso della nostra serata, avremo anche un ospite per mettere anche i puntini sulle i e fare un pochino il punto in casa biancazzurra, però prima la sigla e poi una clip sul momento dei biancazzurri. Grazie a tutti. Invece si è creato quello di 6 punti dal Monopoli quart'ultimo e di 7 con la Turris quint'ultima, questo vuol dire che per i biancazzurri ora non c'è davvero più margine d'errore, un eventuale KO con gli Etnei domenica rischierebbe di far scivolare Artistico e compagni a 9 punti dal Monopoli, proprio il bottino sufficiente a non far disputare play-out. Per non parlare poi di un Monterosi portatosi a due lunghezze dopo il pareggio casalingo contro il Benevento, uno scenario totalmente differente rispetto a quello disegnato prima della trasferta di Brindisi, ma sono ancora 4 le finali da giocare, tutto può ancora accadere, la verità è che conti e tabelle ora servono davvero a poco. Le uniche parole che mi vengono in questo momento è che bisogna parlare poco, chiedere scusa a tutti, bisogna aver vergognarsi per la prestazione che abbiamo fatto stasera. Ciò che adesso non deve accadere nell'ambiente, nello spogliatoio francavillese è crollare nello sconforto, serve una cavalcata da qui al triplice fischio dell'ultima giornata per centrare un obiettivo importante per territorio, città e società. Mercoledì 3 aprile, buonasera e ben ritrovati con Passione Bianca Azzurra nello studio di Francavilla Fontana, allora questa era la clip dedicata al momento della Francavilla, in sovrimpressione il nostro numero per mandare messaggi ma anche la diretta Facebook, vado a dare il benvenuto a chi è in studio con me, vale a dire al direttore sportivo Matteo Lauriola, buonasera. Buonasera Dennis. E buonasera anche a Renato Rubino del Nuovo Quotidiano di Puglia. Buonasera Dennis. E allora direttore io partirei un pochino dal momento attuale, un momento che ha visto la Virtus Francavilla crollare a Brindisi, una partita, l'abbiamo ascoltato anche dalle parole di Villa, insomma un pochino deludente. Abbastanza deludente, nessuno si aspettava una debbalac fatta in questa maniera, anche perché si veniva da una partita come quella contro il Monterosi dove ancora una volta la squadra aveva mostrato grinta, cuore, attaccava gli spazi, ha cercato di vincere e ha vinto una partita importante, quindi tutti quanti speravamo in un derby giocato sicuramente in maniera diversa. Ecco, direttore, c'è sempre l'impressione che questa Virtus faccia un passo in avanti e poi tre indietro, è come se si ricominciasse ogni volta da zero. Però vi siete dati anche un pochino una spiegazione da questo punto di vista? Personalmente ed è facilmente intuibile distinguere l'andamento della Virtus Francavilla dall'atteggiamento interno rispetto alle gare esterne. Le partite giocate alla Nuova Arredo vedono il Francavilla meritare di vincere quasi tutte le gare fatte in casa, ha messo sotto l'Avellino, ha vinto col Monterosi, ha vinto col Foggia, ha perso immeritatamente col Benevento, ha pareggiato due partite clou con Monopoli, ma giocando. Purtroppo fuori casa io ho assistito soltanto ad un pareggio, tutte le altre sono state sconfitte. In un modo o nell'altro è evidente che bisogna cambiare atteggiamento, soprattutto fuori casa. Renato, doveva essere la partita della vita in un certo senso, perché era una partita fondamentale, avevamo parlato anche sulla carta stampata, sui siti, sei punti in queste due partite, ne sono arrivati tre, una partita dell'Odenta. Sì, l'ha detto il mister, vergognosa, possiamo usare questo aggettivo perché l'ha detto il mister, quindi l'hanno detto un po' tutti, quindi mi trova perfettamente d'accordo. Guarda, Dennis, io avevo un presentimento, nel senso che il Brindisi era ormai spacciato, lo sappiamo tutti. Però sai, in un derby, in un derby particolare contro la Virtus, c'è rivalità, è inutile nascondercelo tra le tifoserie, tra le squadre, tra le società, c'è una rivalità. Il Brindisi ha dato di più di quello che ci si aspettava, il Francavilla ha dato molto di meno di quello che ci aspettava. Diciamo che il Francavilla, normale, un pareggio l'avrebbe potuto strappare, ma quello che è veramente incomprensibile, e lo ha accennato poco fa il direttore, non entrando però nel merito, il problema è veramente incomprensibile. Come si fa in sette giorni da una gara strepitosa contro il Monterosi, dove il punteggio è stato addirittura stretto? Partito dominato in assoluto. Il 2-0 era un 5-0, un 6-1, una cosa del genere. Come si fa in sette giorni ad arrivare ad essere così impalpabili, proprio senza idee, senza costrutto, in una gara fondamentale per la salvezza? Lo sono tutte le altre quattro che rimangono, lo sono tutte. Però questa era la prima davvero fondamentale. Non se lo sa spiegare il mister, figurati noi. Però il problema è questo, sono gli stessi giocatori poi, non è che c'è stata grande turnover, sono gli stessi giocatori, mancava la Ribi, però diciamo che tra la Ribi e il Risolo siamo lì. Sì, tra l'altro mancava anche Di Marco, che non abbiamo visto in campo, perché è un infortunio dell'ultimo ora. Ecco, quello che sta mancando, secondo me, adesso, è un po' di Marco, ma molto Macca. Macca faceva la differenza nel Girona di Andata, così come l'ha fatta l'anno scorso. Stanno mancando un po' questi due, e poi manca la spalla ideale per artistico. Polidori va a corrente alternata, Neglia sei infortunato. Insomma, ci sono tutte queste piccole attenuanti, ma che non giustificano di fatto questo Capitombolo inatteso contro il Bribi. Noi proviamo, direttore, a fare un pochino di avere una scaletta, però poi arrivano messaggi a cui dobbiamo rispondere, che magari si riferiscono al mercato. Quindi facciamo un pochino zapping tra i vari argomenti, e ci chiedono, ad esempio, perché non è arrivato un centro avanti a gennaio, visto che questa squadra ne aveva bisogno per dare un'alternativa d'artistico. Perché non è arrivato? Partiamo con il voto. Sono stati trattati tanti. Molti hanno deciso di non scegliere la terza e l'ultima in classifica. Giusto per fargli un nome, l'ha fatto il mister Capuano, mi permetto di farlo anch'io. Con Fabbro avevamo un accordo economico. Non era una trattativa, avevamo un accordo economico. Non è stato portato a casa. Sì, in meri avevamo un accordo economico. Potrei fare una lista di nomi lunghissima. Lunghissima. Su ogni ruolo avevamo tre, quattro, ovviamente, chance. Un mercato condiviso con il tecnico. La società ha messo a disposizione tutto quello che necessitava, fatto in condivisione, ma la posizione di classifica delimitava e riduceva le possibilità che potessero accettare questa destinazione. Questa è la verità. Poi ci scrive Antonio, le scuse non servono più a nulla. Se siete dei professionisti, dimostratelo. Ci scrive Mino, buonasera ragazzi. Vorrei chiedere al direttore quale miglioria si è apportata a questa squadra a gennaio e perché la squadra, quando scende in campo, a volte combatte, a volte si comporta da squadra burattina. Noi siamo stanchi. E la maglia, la città e i tifosi meritano rispetto perché la pazienza è finita e la categoria va mantenuta come vedete voi. Assolutamente d'accordo con il tifoso per mantenere la categoria. Il mercato di gennaio rispetto alla precedente rosa ha quantomeno messo due uomini in ogni ruolo, cosa che precedentemente neanche c'era. Dopodiché i dati dicono che settimanalmente mancano per infortunio 5, 6, 7 persone. Io a Cardi non l'ho mai visto giocare, Cardoselli non l'ho mai visto giocare, Nellia sta rientrando, in grosso rientra questa settimana, Agostinelli sempre infortunato. Non sono scuse, assolutamente, ma l'obiettivo è cercare di mettere a disposizione del mister l'intera rosa che è stata costruita. Poi le scelte le fa ovviamente il mister. Poi ci scrive Alessio Eusepi dell'Ecco. Eusepi dell'Ecco ha preferito il Monterosi perché ha origini più vicine là, non vengono da queste parti. Vutai è stato trattato e ha preferito Ceregnola. Posso fare Borsius, ci era stato promesso, e purtroppo il Benevento non l'ha più dato. Di noi a Del Foggia avevo l'accordo, Canonico non l'ha dato. Possiamo andare avanti all'infinito. Sì, e poi c'è un altro messaggio di Alessio che dice Molnar, Dutunegli e Laribi dovevamo fare il salto di qualità. Molnar ha avuto un'infortuna ed è rientrato da due partite. Il mister sceglie di far giocare altri ed è legittima la scelta del mister. Nell'ultimo periodo siamo riusciti a trovare una certa sistemazione da un punto di vista dei concetti difensivi. A Brindisi è venuto a mancare tutto. Il nostro problema più grande è il basso livello di attenzione che molte volte poniamo nell'applicazione dei concetti. Questo è il limite più grande al di là di chi va in campo o chi sta fuori perché il mister li sta cambiando tutti quelli a disposizione. I risultati non stanno cambiando soprattutto nelle partite in trasferta perché in casa la reazione i ragazzi l'hanno sempre data così come mi aspetto domenica contro il Catania ovviamente la loro reazione. Poi ci scrive Antonio D'Aoria se ha avuto carta bianca sul mercato e poi c'è un altro messaggio che provo a recuperare non riesco a recuperarlo a breve lo ritrovo ah eccolo no non lo ritrovo quindi a breve lo recuperiamo vado a leggere un ultimo messaggio come mai si è scelto di puntare su due esterni come Contini e Neglia quando mancava una punta centrale soprattutto in una squadra che punta sul 3-5-2? Ma la punta centrale era Polidore che fino a quel momento lui ed Artistica avevano fatto ben oltre la doppia cifra quindi bisognava creare un'altra coppia di attaccanti con caratteristiche che attaccassero lo spazio la scelta è rigaduta su Neglia e Contini dopo aver trattato ovviamente tanti altri nominativi che per un motivo o per un altro non sono venuti ma non si va alla scelta alla ricerca soltanto di un nominativo nel periodo di mercato ci si siede un po' su tutti i tavoli poi si vede che cosa si blocca chi può accettare chi accetta chi non accetta la destinazione la posizione di classifica che è fondamentale c'è un altro messaggio da parte di Franco che dice avevate detto di aver investito a gennaio 200 mila euro sul mercato ma dove sono stati spesi? in quelli che sono arrivati ok questo diciamo è il costo è il costo dei contratti di tutti i nuovi arrivi perfetto niente sto provando a recuperare l'altro messaggio ma non lo trovo Renato o meglio chiedo prima al direttore e poi mi ricollego Renato direttore le pressioni della gara col Brindisi hanno giocato un brutto scherzo secondo lei c'è anche la questione pressione che ha fatto la differenza perché noi l'abbiamo presentato come una partita dove le pressioni erano tutte sul Francavilla posso fare un paragone col precedente derby le stesse pressioni c'erano nel derby con il Taranto è stato affrontato in maniera rispettosa c'è stata una grande prestazione si è perso all'ultimo minuto e se ben ricordo nonostante la sconfitta al ritorno i tifosi hanno applaudito la squadra è evidente che la sconfitta di Brindisi al di là di una sconfitta nel derby è stata una sconfitta giunta in maniera non solo inaspettata ma senza aver praticamente partecipato ed è evidente che c'è malcontento da parte di tutti Renato? ma guarda Denis io utilizzo adesso una frase che non mi piace non è mia nel senso non la faccio mia però per rendere meglio la situazione io non vorrei che adesso si buttasse il bambino con l'acqua sporca non è una mia frase non mi piace però è per rendere l'idea cioè siamo ancora a quattro giornate dalla fine e un dato è certo i nuovi arrivi non hanno dato il tasso tecnico che ci si aspettava ed è certo però adesso non è il caso di buttare fango sulla società sulla squadra dobbiamo provare a motivare i ragazzi a salvarli ripeto vado un po' al di là adesso del ruolo del giornalista che deve essere anche un po' critico però dobbiamo salvare la categoria e allora gli errori sono stati fatti lo ha detto il presidente in primis gli errori sono stati fatti da tutti però adesso comincia un altro campionato quattro partite da vincere assolutamente quindi rimbocchiamoci le maniche la cosa che volevo dire sulla partita del Brindisi è stata l'unica forse steccata veramente l'unica insieme a altre due cioè io l'impegno dei ragazzi l'ho sempre visto ma il livello tecnico è quello non possiamo dire che non hanno sudato la maglia l'hanno sudata è tanto pure l'impegno c'è stato l'abbiamo visto probabilmente la gara col Brindisi ha fatto storcere la bocca a molti a tutti ma soprattutto per quei due gol incassati con una difesa schierata che ha fatto che non ha praticamente un dito una testa un piede nei confronti dei giocatori del Brindisi quello è stato il problema aver subito quei due gol così tra l'altro su questo argomento ci torniamo dopo per Vissoli e Lights direttore perché poi ho una curiosità ho recuperato il messaggio di prima sempre Antonio D'Oria chiede è vero che il gruppo è disunito problemi nello spogliatoio dopo Brindisi il ruolo del DS serve ora in questi casi più che mai il gruppo non è assolutamente diviso il gruppo è sicuramente amareggiato con i ragazzi ci si interfaccia quotidianamente su quello che è il momento anche loro lo vivono non allegramente questo momento qua è evidente che sanno perfettamente che si sta dando tutti di meno rispetto a quelle che erano le aspettative io personalmente li vedo allenarsi tutti i giorni e mostrano qualità che poi non sempre la domenica riescono a mettere in campo quindi la posizione di classifica o la pressione di cui si faceva menzione poco fa in tanti di loro attanaglia quelle che sono le loro qualità ed è un peccato perché in settimana credetemi fanno vedere sicuramente qualità che la domenica non riescono a mettere in campo ed è un peccato e come mai direttore lo chiedo a lei che è uomo di calcio in alcune partite in alcune partite lo hanno fatto con ribadisco in casa hanno un atteggiamento sicuramente diverso le dimensioni del campo magari aiutano a dare più intensità alla manovra della stessa squadra fuori casa purtroppo i dati sono inconfutabili questo non riesce ed è un fardello questo che insomma la Virtus Francavilla si porta anche dall'anno scorso nonostante una squadra completamente diversa stanno arrivando un sacco di messaggi a breve li andremo a leggere tutti prima però recuperiamo e vediamo gli highlights di Brindisi Francavilla 2 a 0 e poi continuiamo con le domande al direttore derby tra Brindisi e Francavilla 34esima giornata del campionato di Serie C Girone C un clima surreale lo stadio Franco Panuzzi di Brindisi in assenza del pubblico la sfida che si gioca a porte chiuse per la disposizione degli organi competenti che hanno deciso di far disputare senza la presenza di pubblico né ospite né locale questa sfida che sa di salvezza in particolare per la Virtus Francavilla che è ancora in corsa per un piazzamento play-out e con una piccola speranza anche di uscire dalla zona calda della gradutoria per il Brindisi e evitare la retrocessione matematica intanto pallone ancora largo a sinistra il tentativo da parte di Pagliuca con il pallone che termina sul fondo possiamo segnare questo come primo tentativo da parte della formazione Brindisi ci ha provato ci ha provato Pagliuca se ne va sull'alto di sinistra il diagonale la deviazione in calcio d'angolo ed arriva il primo corner della partita e arriva anche la prima parata della gara con Trotta che ha recuperato questo pallone un erroraccio in disimpegno da parte della Virtus che poteva costare caro la ripartenza dell'attaccante Biancazzurro ha trovato poi la deviazione del portiere francavillese che ha mandato la sfera sul fondo e pronto Petrucci a mettere il pallone nel muccio per la formazione Brindisi la sfera al centro deviazione pallone che termina in rete il Brindisi è in vantaggio si sblocca il risultato al ventunesimo minuto il gol di Bonin sul conseguente corner il Brindisi ci stava andando vicino Alessandro avevamo detto prima la deviazione da parte di Branduani e poi sul conseguente calcio d'angolo anche in questo caso forse Bonin abbastanza solo nel colpire la sfera di testa si abbiamo più volte rimarcato come fosse necessario un errore individuale o da una parte o dall'altra nel dettaglio delle due difese e quindi abbiamo visti due il primo quello di Dutu che di fatto regala il pallone a Trotta e che scatena poi l'azione che poi permette la battuta del corner è appunto Bonin lasciato completamente da solo in una zona di campo in cui non è saggio lasciare spazio ad un difensore di quella stazza poi anche abile nel gioco di testa c'è l'anticipo di Martorelli poi la protegge ancora Trotta Galazzini prova a puntare l'avversario ancora Martorelli c'è lo spazio per il cross per il cross la sfera messa al centro pallone girato in rete per il raddoppio Brindisino 2 a 0 per la formazione bianco-azzurra al ventottesimo minuto il raddoppio del Brindisi si è lasciata ancora sorprendere la retroguardia della Virtus con la girata all'interno dell'area di rigore Francavillese con la sfera messa in rete da Trotta che vale il 2 a 0 ancora una volta Alessandro la difesa Francavillese che ha lasciato spazio a Trotta che era di spalle alla porta a girarsi e poi mettere la sfera nell'angolino per Biondi questa volta il pallone preciso sfera messa al centro il pallone che rimane ancora lì artistico la devia ma c'era la posizione di fuori gioco segnalata dal secondo assistente del direttore di gara ad Ampie e Falcate c'è Trotta largo a sinistra preferisce temporeggiare serve adesso Trotta pinto in sovrapposizione va Trotta ancora dentro l'area di rigore pallone che di nulla termina sul fondo ma ancora uno scambio corto e Brindisi vicino alla terza marcatura esattamente quello che sta mettendo in campo sta giocando senza ansia senza titubanza senza timori perché calcio di rigore calcio di rigore per la Virtus Franca Villa non abbiamo capito sinceramente se ci sia stato un tocco di mano oppure un altro tipo di contratto non è andato a terra nessuno quindi non credo un altro tipo di contratto un tocco di mano perché quello che stava provando a spiegare adesso stavo guardando il primo assistente a mister Lozacco che è andato immediatamente a protestare insomma un rigore un po' anomolo e c'è anche giustamente poi a quel punto si è affischiato un calcio di rigore il cartellino giallo per Merletti non so se il cartellino giallo era per Merletti o per Trotta che stava protestando sinceramente perché comunque il pallone era largo anche in quella circostanza forse non era diciamo che i numeri in oro sul riflesso bianco non tanto ci aiutano non ne parliamo questo va detto anche con la luce della sera ancora peggio nonostante la nuova illuminazione del Fanuzzi sia davvero interessante e comunque di grande qualità quarantesimo superato c'è anche l'ammunizione anche per Lozacco per la protesta probabilmente richiamato dalla panchina è pronto Polidori contro Saio prova a riaprirla la Virtus al quarantunesimo minuto di questo primo tempo il direttore di gara fa posizionare fuori dall'area di rigore i calciatori delle due formazioni pronto Polidori non riesce neanche sul calcio di rigore la Virtus a riaprire la gara al quarantunesimo minuto pallone messo ancora al centro sfera rilanciata lunghe davanti sbaglia anche un calcio di rigore la Virtus e diciamo un giocatore che non disdegna la giocata la rischia e quindi crea anche il pericolo calcio di punizione pallone deviato da Saio sfera che rimane lì prova a ripartire il Brindisi era stato lo stesso Carella a provarci su questo calcio di punizione pallone lungo dentro l'area di rigore questa volta c'è il mirato e c'è il pallone che è terminato sul fondo dando l'illusione del gol ancora Zillo che adesso la recupera prova ad andarsi centralmente preferisce allargarla su un'auto di sinistra il tentativo proprio del neo e giovanissimo entrato vapore contro il Catania nel proprio impianto finisce la gara il Brindisi si batte per 2-0 la Virtus Francavilla il gol di Bonin e Trotta nel primo tempo decidono l'incontro arrivano un po' di messaggi che a breve andremo a leggere io tornerei però con il direttore sulla partita perché abbiamo visto due errori probabilmente clamorosi in fase difensiva in quella storica conferenza stampa del 24 febbraio lei disse ho preteso che si ripartisse dalla BC in fase difensiva e dobbiamo dire che fino ad ora la difesa aveva fatto un ottimo lavoro poi al momento chiave si sono sciolti nuovamente è una questione di attenzione sui concetti e di applicazione i concetti difensivi sono questi sia a livello di Francavilla che di B di A che di Champions basta avere attenzione e cattiveria quando non lo fai vai in difficoltà ed è evidente quello che è successo eppure Dennis stiamo parlando di gente esperta perché il secondo gol è Montagudo ha fatto girare l'attaccante Trotta senza mettere un piede stiamo parlando di giovani credo non ci sia bisogno neanche di sottolinearlo perché poi ognuno di noi o chi va in campo si rende conto dell'errore che ha fatto in quel momento stiamo parlando di un giocatore fortissimo Montagudo è forte è stato rinnovato nell'ultimo periodo il ragazzo è stato uno di quelli più attenti che ha spinto in avanti la squadra che ha caricato la squadra infatti direttore il problema non era la difesa prima della partita con il Brinzi era l'attacco che si segna poco questo era il problema poi c'è un lungo messaggio buonasera a tutti vorrei chiedere all'Auriola il vero motivo del perché la squadra sabato sera non è entrata con la mentalità giusta credo se l'allenatore preparerà la partita da una settimana contro il Brindisi doveva sapere tutte le insidie che nascondeva questa partita la cosa che mi fa rabbia è che ho visto una squadra che non aveva voglia né di giocare ma neanche di ribaltare il risultato nonostante eravamo sotto di due gol come mai è successo questo? ma io parto dal fatto la settimana che si è trascorsa prima della partita di Brindisi è la settimana che ha fatto seguito ad una vittoria e si è visto in campo nella testa dei ragazzi negli allenamenti il sorriso c'era un bel clima tutto faceva presagire ad una bella settimana che potesse proseguire anche nel derby con il Brindisi la società ha messo a disposizione per l'ennesima volta la possibilità di fare il ritiro cioè tutto quanto necessario per affrontare al meglio una qualsiasi gara in questo caso si trattava del derby è stato fatto il fatto sta che al momento in cui siamo partiti in campo a Brindisi l'atteggiamento è stato quello tra i più sbagliati non si sono neanche più di sottolineare però il Brindisi ci ha messo tanto ha giocato fortissimo no il Brindisi ha giocato fortissimo perché ne abbiamo giocato pianissimo questo è evidente va detta anche un'altra cosa direttore che mi trovo d'accordo il messaggio di prima cioè che la squadra davvero ha fatto poco per provare a recuperare a parte il rigore sbagliato che anche quello è un po' l'immagine della stagione però è quello che è mancato non lo so anche una scossa una scintilla purtroppo l'aspetto psicologico credo che sta diventando fondamentale quando si va sotto tranne che nella partita di Messina poi chiusasi in maniera purtroppo che tutti ricordiamo come dove riuscirono a ribaltare anche due gol in tutte le altre gare una volta che vai sotto non si riesce a recuperare sono dati che stiamo commentando insieme purtroppo si stanno replicando ed è innegabile che ci sono dei problemi altrimenti la classifica non sarebbe stata questa qua direttore mi si è acceso un flash in questo momento io ricordo anche nella conferenza stampa di febbraio che lei disse per vincere in serie ci basta poco ci vuole cattiveria ci vuole grinta oltre mettere in campo le qualità che i ragazzi hanno io lo sottolineo sempre loro hanno qualità non riescono a metterle in campo così come fanno durante la settimana io quotidianamente li vedo e li vedo fraseggiare bene la domenica il pallone scotta di più ed è evidente che è una questione di personalità la classifica sta pesando nella testa di ognuno di loro ma la Serie C va affrontata con cattiveria cioè il contrasto devo vincerlo io il secondo contrasto devo vincerlo io in casa ce l'abbiamo questo atteggiamento fuori casa non riusciamo ad averlo l'abbiamo fatto soltanto a Taranto e nella bella prestazione che abbiamo fatto a Crotone dopodiché non ne ricordo altro tra l'altro per chi si fosse collegato in questo momento siccome qualcuno mi dice stiamo facendo un processo no non è un processo ma è l'occasione per mettere i puntini su lei visto che le altre settimane abbiamo i calciatori oggi abbiamo il direttore sportivo Lauriola a cui arriva una domanda da Giovanni a breve andiamo anche da Davide Cucinelli che so essere collegato credo da parte mia che dall'inizio e da gennaio ci sia mancato un vero top player a centrocampo anche se la Ribi mi piace cosa ne pensa il direttore Giovanni da Francavilla se piace la Ribi non manca il top player è evidente la risposta perfetto abbiamo risolto Renato manca il top player a centrocampo secondo te? guarda o meglio ti piace la Ribi come top player mi piace la coppia la Ribi risolo però è in dubbio è in dubbio che lo abbiamo detto anche durante le partite insieme che un tipo alla Toscano avrebbe fatto comodo però la Ribi ha tutte le carte in regola e lo ha dimostrato ma non basta dire mi piacerebbe questo calciatore no no perché poi anche a me piacerebbe però poi c'è bisogno della società che dice di sì è il calciatore che vuol venire il Toscano ha nominato un calciatore che guarda caso è stato anche monitorato ma non si muoveva quindi è certo è certo leggo un messaggio perché chiedo scusa al nostro telespettatore ma l'ho completamente perso perché era un sms e non un whatsapp allora recupero recupero allora io la stavo in quel ruolo è stato trattato Franco che il pubblico di Francavilla conosce ed apprezza molto bene il ragazzo ha dato ampia disponibilità c'era l'accordo economico con il calciatore il Messino ha deciso di non darlo possiamo continuare no no ma secondo me questa no ma non devo stare qui a fare i nomi di quelli trattati per dire che da parte della società c'è stata ampia disponibilità a trattare tutti i calciatori che si ritenevano giusti per la causa ma il no del Messina il no del Benevento il no del Foggia o tanti altri no che non sto qui a dilungarmi inutilmente anche perché oggi è il momento di stare insieme noi oggi il Francavilla è formato da questi 24-25 calciatori sulla carta la domenica ne trovo 14-15 purtroppo l'obiettivo mio è riportare in rosa tutti gli infortunati poi analizzeremo il perché degli infortuni se dipende dal campo tutto questo i bilanci alla fine non c'è problema adesso il mio obiettivo è riportare mettere a disposizione del mister tutta la rosa direttore su questo lei è fiducioso per questo finale di stagione ci sto lavorando anche per dare una risposta di foto ci sto lavorando quotidianamente sto mettendo pressione sullo staff sanitario che lavorano di continuo i medici a disposizione gli studi radiologici e quant'altro sempre a disposizione i ragazzi oltre all'allenamento si presentano in sede la mattina per fare tutto quello che necessita per mettersi nelle migliori condizioni per un motivo o per un altro il mister non riesce ancora oggi ad avere l'intera rosa a disposizione devo dire grazie a tutti gli altri ragazzi che fino ad oggi stanno dando la loro disponibilità ma è evidente che qualche problema esiste mi auguro nelle prossime quattro partite di ritrovare tutti i ragazzi a disposizione direttore io non ho le competenze ovviamente calcistiche nessun né del mister quindi prenda questa domanda così con il beneficio di inventario ma una curiosità Laribi e Risolo dal punto di vista tecnico possono coesistere? assolutamente chi sa giocare a pallone poco coesistere assolutamente sì ma nelle scelte no 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 io sono l'ultimo no dico io io nelle scelte non ci metto le commento nel dopogara quello che guardo sono titolato a dire no ma nelle scelte la responsabilità deve essere poi in panchina non ci sarebbe nessuno in quel ruolo no no c'è l'allenatore no 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 come centrocampista diciamo in 12 non si può giocare certo detto questo allora andiamo subito allora ci sono un sacco di messaggi quindi chiedo un attimo diciamo per recuperare tutto allora breve andiamo da cucinelli leggo solo un messaggio perché l'avevo perso giustamente il telespettatore mi riprende troppe chiacchiere al vento la decenza di stare in silenzio direttore venite alle fragole questo è un messaggio non so che significa venite alle fragole qualcuno se ne dovrà prendere la responsabilità di tutto ciò o no certo hanno nomi e cognomi il sottoscritto è arrivato a Francavilla il 17 gennaio fino al 17 gennaio c'è chi ha le responsabilità conoscete nome e cognomi comunque il presidente ha detto che tutti sono tutti non può essere il il presidente è una persona seria per comodità se c'è un anno storto è evidente io sono stato chiamato a metà gennaio ma direttore c'è un progetto che è partito c'è un progetto che è già partito zoppicando ma perché ci ricordiamo la conferenza stampa di maggio-giugno il presidente io non entro a maggio-giugno disse che quest'anno c'è da soffrire lo disse già e quindi si sapeva probabilmente Davide Cucinelli buonasera lo abbiamo dovremmo avere Davide Cucinelli da regia eccolo Davide buonasera buonasera Demis buonasera a Renato al direttore cogliamo l'occasione per far rifiatare un attimo il direttore allora Davide tu hai commentato la partita sabato tra Brindisi e Francavilla una partita che ne parlavamo anche in studio doveva essere la partita della vita per il Francavilla invece è stata la partita della vita tra virgolette del Brindisi perché il Brindisi ha fatto una gran partita mentre il Francavilla diciamo si è un po' ecclissato che tipo di partita hai visto come te la sei spiegata questa partita questo derby ma io sono abbastanza d'accordo che sta facendo a questo momento cioè che Cana è stata molto condizionata dall'attento mentale paradossalmente il Brindisi poteva essere quasi più libero mentalmente perché negativamente ha poco da chiedere a questo se non chiudere i tanti su quello ha trovato i modi giusti Allora Davide ti lascio un secondo così ripristiniamo un attimo il collegamento audio perché si sente a scatti intanto io leggo un altro messaggio che dice io la stavo temendo questa partita sia perché il Brindisi è una squadra non corrispondente ai punti che ha ma soprattutto per il terreno di gioco noi siamo abituati dell'erba sintetica che ti fa giocare velocemente e bene anche la soterra con dei fraseggi anche stretti e veloci cosa che non puoi fare in un terreno in erba naturale a meno che sia un campo perfetto e rasato bene ed è anche questo il motivo per cui non riusciamo quasi mai a fare risultato in trasferta e a fare delle partite così brutte tali da sembrare una squadra dell'oratorio ora mi chiedo come sarà possibile fare i risultati che ci potessero portare i play out ed eventualmente alla salvezza se ciò significa battere squadre come Catania e Juve e Sabia in casa che sono molto forti e fare il risultato cerignola a potenza in cui giochiamo in trasferta io la sto vedendo molto nera considerando anche che se andiamo ai play out ci tocca giocare fuori il ritorno molto probabilmente Monterosi a Monopoli o Turris o contro il Monterosi direttore vogliamo rispondere a questo messaggio sulla vedo nera lei come la vede come la vede io sono particolarmente positivo mi auguro per quello che hanno dimostrato fino ad oggi per le due partite casalinghe benché gli avversari sono avversari di rango spero di invertire il trend delle partite fuori casa e di agguantare i play out dopodiché ribadisco nelle partite secche magari ritroviamo una certa condizione ritroviamo la disponibilità di tutti gli elementi quello che non è successo fino ad oggi mi auguro possa succedere nelle ultime 4, 3, 2 partite poi incontreremo la Juve e Sabia Francavilla incontrerà la Juve e Sabia praticamente già promossa già dalla settimana prossima probabilmente sarà già in serie B anche se Renato ricordo l'anno scorso anche il Catanzaro era già promosso ne fece 4 però quelle partite che non ha più nulla da chiedere sì le partite con Catania e Juve e Sabia sono più facili da preparare perché per il blasone dell'avversario certo e lo ha detto il sindaco oggi sul mio giornale a breve recuperiamo tutti i messaggi promesso Davide Cucinelli scusa se ti ho interrotto prima ritorniamo a parlare di Francavilla Brindisi Brindisi Francavilla adesso si senta meglio sì è una gara con distruttore nelle due squadre era più libero se non quello di chiudere questo candidato e questa pressione pronta Davide purtroppo purtroppo non ti sentiamo o meglio ti sentiamo a scatti e credo ci sia qualche problemino insomma di collegamento allora noi andiamo avanti intanto ringraziamo Davide Cucinelli vediamo se sarà poi possibile risentirlo tra poco direttore leggo messaggi a go go man mano che arrivano io ho una scaletta a mano di disposizione in trasmissione due ore eh sì immaginavamo allora direttore questo è il momento più basso di Francavilla dite le cose come stanno siamo quasi in D non illudete o fate i pinocchi ha risposto prima la domanda insomma poi un po' più di fiducia ci vuole sì sono d'accordo direttore perché non si fa giocare Contini al posto di Politori un saluto dal tuo geolier è una scelta che aspetta il mister poi Antonio scrive si ripete che si deve salvare la categoria ma i giocatori non credo che l'abbiano capito questi se ne fregano non lo so dall'esterno può passare questo messaggio ritengo che così non sia perché ognuno di loro buona parte c'è anche il contratto il prossimo anno se un lavoratore non tiene al proprio contratto di lavoro presumo che non sia neanche tanto responsabile nei confronti della famiglia o di qualche figlio che gestisce e poi c'è credo un'altra risposta abbastanza scontata cioè direttore Magavazzi che si allena ogni giorno perché non gioca e anche qui abbiamo detto che è decisione del mister è certo perfetto breve leggiamo anche tutti gli altri messaggi su Whatsapp Davide Cucinelli ci riproviamo si dice che la terza è qua no ma già dall'inizio mi sembra che non è buona e meno la terza perché non si prova a togliere proviamo proviamo Davide anche senza cuffie magari se vuoi fare un tentativo altrimenti rinviamo alla prossima ci proviamo ci proviamo non so che sentite con la purtroppo scatti io chiedo chiedo scusa diciamo a Davide Cucinelli però proviamo Davide non so se adesso mi sentite credo di linea oggettiva niente niente Davide purtroppo dobbiamo rimandare il collegamento grazie allo stesso per essere stato con noi anche se per pochi secondi ti vogliamo bene ti vogliamo bene a Davide Davide Cucinelli allora caro direttore cosa risponde adesso che è convintissimo ci diceva che si salvava tranquillamente la squadra oltre agli orrori visti quest'anno la classifica parla chiaro emerge il fatto di non aver mai una squadra con la cazzimma giusta la rabbia ma incazzata le sconfitte e tanti gol presi come se nulla fosse la risposta quella dovrebbe essere non lo so non lo so la chiedono a lei direttore sono Stella vorrei sapere se sono realmente infortunati alcuni giocatori oppure si tengono fuori perché non vogliono giocare ci sono referti per ogni esame diagnostico che è stato fatto quindi a meno che il dottore non dice cose contrarie dal vero non credo parliamo tutti di lesioni di primo grado lesioni al polpaccio anche abbastanza fastidiose il nesso di tutte queste lesioni al polpaccio da che cosa può dipendere non è il momento in cui posso affrontare queste cose qua purtroppo porta via del tempo ma sono dei dati sui quali dopo per forza di cose bisognerà intervenire poi ma sta accusando direttore sta accusando la società dicendo che il progetto è partito zoppicando Giovanni da Francavilla noi non sto accusando la società gli sto dicendo sono arrivato a gennaio c'erano già delle difficoltà è evidente che queste difficoltà sono state create sin dall'inizio poi perché abbiamo mandato via Giovinco e Fornito non sarebbe stato meglio verli in squadra per aumentare le qualità della squadra non credo che Giovinco e Fornito dove sono andati stiano facendo sfragelli uno non gioca e l'altro partecipa Cosimo dice sono Mimmo scusate sono Mimmo semplicemente la società ha costruito una squadra non da C direttore il progetto è vero è partito Claudicante ma dal 17 gennaio la situazione è rimasta tale e quale se non peggiorata e col Monterosi la splendida partita è stata anche condizionata dalla superiorità numerica dal trentesimo e primo tempo Fabio da Francavilla la gara con il Monterosi è stata una gara vinta meritatamente al di là della superiorità numerica ci sono state gare in superiorità numerica vedi Messina dove l'abbiamo persa e tra l'altro questa è una cosa che abbiamo detto anche a Passione Biancazzurra la scorsa settimana è stata una super partita quella con sì però Dennis ricordo ritorno a quella conferenza stampa di fine di inizio estate si disse dobbiamo conquistare la salvezza anche all'ultima giornata dell'ultimo turno play out magari a calci di rigore supplementare cioè quest'anno l'obiettivo è la salvezza non ci poteva essere nient'altro quindi sia ancora in linea per raggiungere questo obiettivo dobbiamo fare in modo tutti tutti insieme anche noi della stampa di spingere la squadra affinché si raggiunga questo risultato perché insomma quattro partite bisogna vincerle punto conquistando la salvezza magari all'ultimo play out allora adesso andiamo ad ascoltare il tempo di un sorso d'acqua anche le parole di Alberto Villa nel dopogara parole brevi che racchiudono anche l'amarezza del tecnico Biancazzurro le uniche parole che mi vengono in questo momento che bisogna parlare poco chiedere scusa a tutti bisogna vergognarsi per la prestazione che abbiamo fatto stasera adesso andremo a ricercare i motivi ma come ho detto prima c'è da chiedere scusa a tutti per la prestazione vergognosa che abbiamo fatto oggi alla società in primis e ai nostri tifosi secondi e noi dobbiamo farci tutti un bel esame di coscienza perché una prestazione del genere è inaccettabile sei punti dalla quart'ultima un po' preoccupato noi lo sapevamo qual era il nostro campionato quali sono le nostre difficoltà da qua alla fine come ho già detto prima dobbiamo fare più punti possibile cercare di portare a casa poi vedremo dove siamo arrivati alla fine e metterci nella posizione se riusciamo migliorare i play out allora Renato ci scrive un telespettatore Di Marco Macca perché non giocano mai insieme Villa un po' pure le sue colpi e mi dispiace dirlo ma è così va ricordato anche che Di Marco era infortunato ma probabilmente la domanda è riferita anche alle partite precedenti beh sì l'abbiamo detto prima quello che sta mancando è proprio questa coppia di giovani che hanno fatto tanto bene lo scorso anno e nel girone di andata poi Di Marco ha avuto questi problemi Macca poi probabilmente non ha saputo gestire il suo momento migliore per cui è venuto anche meno dal punto di vista caratteriale e purtroppo è così questa annata è andata così Macca probabilmente non sta dando quello che poteva dare su Di Marco c'è stato l'infortunio però il resto ma quello che voglio dire è che da agosto ad adesso nulla è cambiato a livello di rendimento di punti della squadra sia con Villa che con Locchiuzzi che con Villa il rendimento è stato sempre uguale stiamo parlando di 0,8 punti a partita per ogni gara insomma stiamo parlando del nulla quindi è inutile fare questi ragionamenti quel giocatore quell'altro purtroppo la squadra è questa lo sapevamo che tecnicamente non era eccelsa e dobbiamo salvarci con queste forze d'accordissimo con il giornalista a proposito del discorso di inizio stagione ma a vedere certi scempi è certamente da vergognarsi direttore perché al posto di fare una rosa di 24 giocatori tutti i ragazzi non prendete gente che ha meritato in C in D in B ricordiamoci che la serie C non è la promozione o l'eccellenza e qui serve gente o gli attributi perciò non parliamo di paragone di futuro iniziatevi a prendere responsabilità voi come direttore e poi l'allenatore non sono arrivati i ragazzini a gennaio assolutamente sì poi faccio i complimenti al direttore per la ribi unico giocatore dai piedi buoni ci ostiniamo a giocare con il 3-5-2 ma questa squadra viste alcune qualità di alcuni giocatori non potrebbe giocare con il 4-3-3 credo sia una domanda abbiamo bisogno di più giocatori che corrono sulle fasce sovrapposizioni inserimenti altrimenti non arriviamo alla porta avversaria artistico lasciato troppo solo in attacco e ha bisogno di supporto di giocatori veloci qualità di Macca Di Marco Contini Biondi che un 4-3-3 riuscirebbero a giocare insieme lei è stato a Foggia e sa di cosa parlo se le dico 4-3-3 cosa ne pensa? secondo me manca qualche pezzo per fare il 4-3-3 non ci sono gli esterti pure i terzi ma al di là di tutto non faccio il tecnico io io leggo direttore assolutamente sì se vogliamo entrare nei dettagli non ci sono gli esterni per fare il 4-3-3 vado a recuperare anche i messaggi di Giampiero che mi dice se leggo i suoi messaggi allora Giampiero ci scrive squadra da eccellenza ma quale salvezza ancora play out sicuri una domanda cosa dite di artistico? artistico sta facendo bene è sotto gli occhi di tutti ha ampi margini di miglioramento deve migliorare sicuramente in alcuni fondamentali ma è un calciatore che davanti a sé ha sicuramente su di sé gli occhi di tutta la Serie B il calcio di rigore l'ha tirato bene è stato bravo il portiere del Brindisi sì Polidoni eh Polidoni scusate Dario ci scrive perché la squadra insieme al direttore al ritorno da Brindisi non sono venuti all'esterno dello stadio dove c'erano i tifosi? questa ovviamente è una domanda è una considerazione da parte di Dario che ci dice perché non leggiamo una domanda l'unico a cui dovete chiedere scuse a chi non vi fa mancare nulla per noi tifosi siamo stanchi di queste scuse direttore si assuma le sue responsabilità domanda al direttore lui che è arrivato il 15 gennaio allora domanda al direttore lui ha detto che è arrivato il 15 gennaio e perché se non credeva di arrivare a dei giocatori che potessero portare la salvezza accettato l'incarico ma io ho accettato l'incarico perché era da accettare considerato il progetto che portava avanti questa proprietà e chi rappresenta questa proprietà il mercato di gennaio con la posizione di terza ultima in classifica non ha offerto altro questa è la verità sì direttore per quanto riguarda invece spostandoci sulle parole di Villa sull'arrivo di Villa che cosa ha dato in più alla squadra questo tecnico che ha comunque dato un'impronta di gioco l'abbiamo visto è stata una Virtus che nelle ultime settimane al di là poi di queste piccole battute di arresto ma che si è comportata bene a parte Caserta ribadisco ha posto attenzione sui concetti difensivi ha dato una certa solidità per quanto riguarda la fase difensiva siamo riusciti soprattutto nelle gare casalinche a proporre un gioco diverso diverso soprattutto per quanto riguarda la finalizzazione il fatto sta che fuori casa purtroppo non riusciamo a portare punti questi sono i dati non sono miei impressioni Direttore ti chiedono anche se c'è qualche ragazzo del settore giovanile che le interessa o che l'ha colpita assolutamente sì il nome non ce lo dice? no ma Baglivo è sotto gli occhi di tutti ce ne sono altri Magnati si sta allenando con noi Vapoli si sta allenando con noi ma ci sono fasce di età più basse sicuramente molto interessanti due o tre li ho individuati ma l'attenzione adesso è sulla prima squadra certo Namah Salva Forza Virtus sempre il messaggio di Franco noi ci andiamo a vedere adesso una scheda dedicata al calendario le ultime quattro partite per arrivare a disputare i play out due partite in casa contro Catania e Juve Stabia e due trasferte Cerignola e Potenza un calendario perfettamente simmetrico con un grado di difficoltà piuttosto elevato leggendo i nomi delle squadre ma che contestualizzato potrebbe giocare a favore della Virtus Franca Villa sicuramente l'esame più impegnativo è quello in programma domenica contro il Catania al netto delle difficoltà riscontrate dai siciliani nelle ultime settimane quell'etnea resta una corazzata con calciatori del calibro di Cianci di Carmine Peralta Chiricò Costantino e l'infortunato Sturaro paradossalmente assume i connotati di un vero e proprio scontro diretto il Catania in caso di sconfitta potrebbe essere sorpassato dalla Turris e agguantato dal Monopoli finendo con tutte le scarpe in zona play-out poi il Cerignola ancora in lotta per un posto nei play-off partita che verrà poi seguita dall'impegno interno contro la Juve Stabia che potrebbe anche arrivare alla nuova arredo arena con il titolo di campione in carica e quindi senza la necessità di vincere a tutti i costi e gran finale a potenza contro una squadra al momento più 5 sulla Turris e con più di mezzo passo salvezza già in tasca un percorso sicuramente impegnativo ma comunque alla portata di una Virtus Franca Villa che dovrà imprimere una decisa accelerata per guadagnare punti e arrivare al traguardo salvezza almeno 9 punti su 12 sperando in qualche passo falso di chi precede in classifica per i biancazzurri ora o mai più sì ora o mai più direttore aveva detto che ci salvavamo di sicuro ora cosa ne pensa io continuo a credere la salvezza anzi ci tengo a sottolineare una cosa l'ho detto prima a microfoni spenti tutte queste domande altre non fanno che dimostrare la passione e l'attaccamento della tifoseria in definitiva vogliamo la stessa cosa loro stanno mostrando stanno mostrando interesse e attaccamento attraverso tutte queste domande ma la stessa maniera lo stiamo facendo noi in tutte le maniere in tutte le maniere stiamo cercando di portare a casa la salvezza fino all'ultimo minuto l'obiettivo è comune allora Alessia ci scrive però nessuno ringrazia Fracchiolla che ha abbandonato la barca Giovanni che scrive palla a terra non si gioca proprio due tocchi di palla non se ne parla proprio esistono sempre i lanci lunghi bisogna lavorare su questo Franco che mi riprovera di aver letto l'ultima parte del messaggio basta che ne salvamo scrive sono stato perdonato Antonio scrive tornando al discorso dei tanti calciatori sondati che non sono arrivati non credo che un intero giro di ritorno un calciatore rifiuti una piazza seria come Franca Villa Franca Villa non solo è una piazza seria Franca Villa è una piazza riconosciuta come tale il problema è la posizione di classifica e tanti non hanno voluto mettere che ne so al rischio il biennale offerto Casarini ha rifiutato giusto me ne viene un altro ma no ne possiamo parlare di tanti ha rifiutato un biennale diciamo tutti i nomi che aveva dato Antenna Sud a gennaio ma sono nomi ma si è andati non su Casarini su tanti e tutti i giocatori ci pare di capire anche di abbastanza esperienza e qualità anche profili importanti ma non ti e non era l'aspetto economico perché il presidente Magri ha dato ampia disponibilità con il biennale poi in caso di retrocessione la società avrebbe perso un patrimonio sì più che altro anche i giocatori avrebbero perso un patrimonio direttore più volte hai detto che chi sceglie è l'allenatore sicuramente non si è d'accordo con qualche sua scelta ma perché non l'ho aiutato a scegliere il giocatore da mettere in campo Damiano non mi compete questo compito qua sicuramente io col mister ci parlo non quotidianamente più volte all'interno della stessa giornata assisto a tutti gli allenamenti quello che vedo la domenica riporto se ci sono degli errori ribadisco quello che bisogna fare bisogna allenare ma poi in campo ci andiamo noi ci va la squadra la pressione fa diventare bollente un pallone e vedi fare delle scelte insensate durante la settimana tutti i ragazzi mostrano qualità ribadisco mostrano qualità che tante volte non riescono a mettere in campo la domenica questo è il mio più grande dispiacere dico tante volte ai ragazzi vi avrei voluto vedere questa stessa squadra in una posizione di classifica più tranquilla vedi Sorrento vedi Latina in maniera tale che liberi dalle pressioni potevate mettere a disposizione tutte le qualità che sicuramente avete e non state mettendo fuori anche perché va detto che dal mio punto di vista in casa la squadra diverte quando gioca quindi probabilmente liberi anche mentalmente diverte comunque riesci a fare la partita fuori casa non riusciamo a fare la partita come noi intendiamo e come la facciamo in casa e questo è un peccato inutile prenderci in giro siamo destinati alla retrocessione grazie comunque Forza Virtus questo è il messaggio che ci arriva su Whatsapp poi però c'è un messaggio di Giovanni che dice una domanda personale ma il direttore ci crede alla salvezza visto il livello dei giocatori che abbiamo la risposta la vogliamo con un giudizio imparziale personalmente sì assolutamente sì ci sto mettendo anime e cuore anche di più quando non hai esterni che sanno puntare l'uomo non hanno nemmeno gamba cosa serve proporre su 3-5-2 il buon Ranieri mister glorioso nelle difficoltà è sempre ripartito da un basico 4-4-2 vedo solo paura in campo non so perché e poi c'è un altro messaggio no era un aspetto tattico palla a terra non si gioca proprio no l'avevamo già detto a posto ci stiamo rincitrollendo allora andiamo a vedere adesso gli highlights della Catania prossimo avversario della Francavilla la Catania che ieri ha vinto la Coppa Italia Serie C al centoventesimo proprio lo scadere quindi arriveranno a Francavilla magari con mezz'ora in più nelle gambe dei supplementari della Coppa Italia Serie C vediamo gli highlights in campionato invece dove hanno perso per 3-2 contro il Giuliano poi siamo alle battute finali quindi per gli ultimi messaggi c'è ancora poco tempo vediamo parte subito molto forte il Catania che alla prima occasione sblocca la partita cross di Zammarini colpo di testa di Cianci ed è in vantaggio la squadra di Zeoli alla prima opportunità Cianci mette a segno il secondo gol con la maglia del Catania seconda rete consecutiva dopo quella realizzata contro la Turris ed è subito 1-0 il Giuliano prova a reagire lo fa con questo tiro alla distanza di Romano che complice una deviazione termina di poco fuori ma non crea alcun tipo di pericolo al portiere Furlan continua ad attaccare la squadra di Bertotto che poco più tardi ci prova con Salvemini tocca Furlan la palla sbatte sul palo e poi torna tra le braccia del portiere del Catania fortunato salvato dal palo il Catania si rende pericoloso invece con Di Carmine in conclusione col Mancino in diagonale che termina però distante dalla porta del Giuliano ancora Catania pericoloso con questo cross basso Cianci recupera sulla sponda di Di Carmine il suo tiro viene però parato da Russo che riesce a deviare in calcio d'angolo sugli sviluppi del corner pericoloso Monaco che però di testa non impatta bene la palla termina molto larga distante dalla porta del Giuliano si passa al secondo tempo col Giuliano che attacca la ricerca del pari e la prima azione lo trova con Salvemini che di punta anticipa tutti errore di Furlan con la palla che gli passa sotto le gambe vede 1-1 nono gol in campionato per il capitano del Giuliano che realizza così la rete del pari complice un grave errore del portiere del Catania il Giuliano continua ad attaccare si rende pericoloso Ciufferri il suo tiro viene respito da Furlan dall'altra parte ci prova invece Di Carmine spaglia però la conclusione palla larga azione da una parte azione dall'altra entrambe vogliono provare a vincere la partita e il Giuliano completa la rimonta 68esimo col colpo di testa vincente di Ciufferri sugli sviluppi di un fallo laterale si fa trovare pronto sul secondo palo e mette dentro il suo sesto gol in campionato rimonta completata per la squadra di Bertotto col colpo di testa di Flavio Ciufferri che batte Furlan e fa 1-2 il Catania però reagisce immediatamente al 71esimo trova il pari con Boa che in area di rigore è il più lesto col mancino a girarsi e a mettere in porta 2-2 pareggio immediato la squadra di Zeoli che reagisce con carattere con determinazione il cross di Cicerelli la girata di Boa seconda rete in campionato per lui ed è 2-2 vuole anche vincere la formazione siciliana ci prova con Welbeck Baldi ne è entrato a causa di un problema nel portiere russo riesce a deviare si fa trovare subito pronto il Giuliano con questo cross di Giorgione trova il gol della vittoria lo firma ancora una volta Salvemini spizzata vincente che batte Furlan doppietta personale doppia cifra in campionato quota 10 e soprattutto 3-2 ancora una volta passa in vantaggio la formazione di Bertotto che poi chiude in superiorità numerica Catania in 10 per l'espulsione di Cicerelli che dice qualche parola di troppo all'arbitro arriva il triplice fischio il Giuliano espugna il Massimino Allora direttore partita abbastanza impegnativa quella con il Catania assolutamente sì un organico di primo piano inutile dirlo ma sono quelle partite più facili da preparare per quello che hanno dimostrato fino ad oggi la squadra del Sancavilla quindi sono certo della reazione che questa squadra ha sempre dato nei momenti più bassi la squadra ha dato comunque una reazione Allora vorremmo sapere i nomi di chi è stato trattato a gennaio ci scrive poi il rinnovo di Montiaguto fa capire qualcosa come mai questa cosa se qualcuno ha rifiutato il biennale a gennaio Sono scelte Montiaguto ha accettato è un segnale forte della società è un segnale forte sì e se la gente decide di rinunciare al biennale ci sta che uno con la posizione terza in classifica non voglia mettere a rischio il proprio contratto ma non sono scelte che posso fare io c'è l'accordo con il procuratore c'è l'accordo con la società il calciatore chiede il biennale il calciatore sceglie di non venire e devo dire anche che questa è una colpa dei giocatori che probabilmente non conoscono Francavilla perché conoscendo Francavilla probabilmente avrebbero accettato anche un biennale ma credimi di Francavilla non si fa altro che parlare bene perché c'è una serietà di fondo riconosciuta a tutti i livelli quindi ribadisco da parte della società tutto l'impegno per poter portare a termine questa salvezza ma si sta facendo di tutto di tutto e anche di più sotto sto punto di vista i tifosi del Francavilla possono stare tranquilli ma dal dal dibattito che sta venendo fuori te l'ho detto anche prima si vede che c'è c'è passione c'è voglia c'è forza c'è voglia di portare a casa questa salvezza la si porta insieme tutti insieme domenica allo stadio viene il Catania facciamo tifo per la nostra squadra io a modo mio cerco di dare la carica ai ragazzi quotidianamente ci sono vicino ci sto addosso anche troppo anche troppo allora ultimi messaggi sforeremo di qualche minuto avviso la regia del buon Fabio Pignatelli niente più scuse si ha paura di perdere tante pressioni squadrono all'altezza basta bisogna vincere tutti i costi tutti coloro che scendono in campo devono dare il massimo possiamo salvarci anche all'ultimo minuto dice Vincenzo Morrone poi Giancarlo direttore mettiamo da parte tutto polemiche passato antipatie colpe ora non serve facciamo un quadrato in queste ultime partite chi vivrà vedrà finalmente arriva anche un'aria un pochino di ottimismo nel finale di puntata ribadisco vogliono tutti la stessa cosa chi lo dice in una maniera chi lo dice in un'altra tutti in definitiva vogliono la salvezza del Francavilla temono di poter retrocedere nessuno vuole retrocedere io in primis il presidente i calciatori non vogliono retrocedere i calciatori non vogliono offrire quelle prestazioni definite anche indecorose ma assolutamente capita molti di loro hanno anche il contratto il prossimo anno non è bello perdere un contratto di lavoro molti hanno moglie e figli a casa saranno responsabili nei confronti di queste persone quindi non metto in dubbio questi valori qua il tifoso il tifoso ribadisco da una sconfitta con il derby di Taranto allo stadio sono stati accolti da applausi è evidente che dopo una sconfitta come quella di Brindis che cosa ci si aspettava le domande non potevano che essere di questo tenore ma l'unione di fondo è entrambi vogliamo salvarci ed entrambi facciamo di tutto perché questo avvenga in che maniera domenica ognuno faccia la propria parte direttore rimpianti per non aver accettato l'offerta per artistico assolutamente no artistico non ha mai preso in considerazione l'idea di andare via ci sono stati tanti interessamenti ci sono state trattative ma la base di partenza era che lui restasse e Gabriele ha sempre ribadito di voler rimanere qua quindi non c'è mai stata la possibilità che lui potesse andare via poi c'è un bel messaggio ci tengo a leggere perché arriva forza ragazzi avete una società forte e seria forza Francavilla da un tifoso del Brindisi e questo diciamo fa capire anche che c'è anche il territorio vorrei chiedere questo anticipo al nostro telespettatore che probabilmente è una domanda a cui il direttore non risponderà perché non si pensa a quello ma direttore ci dicono vorrei chiedere se dovessimo retrocedere abbiamo la possibilità di risalire le capote tramite il ripescaggio Francesco tifoso doc non ci sto minimamente pensando non posso essere distratto da questo obiettivo io devo cercare di salvarmi sul campo in tutte le maniere poi sicuramente la Virtus Francavilla è una società non solida di più Renato tornando invece sulla partita con il Catania allora intanto mi aspetto come sempre devo dire quest'anno il pubblico c'è stato allo stadio più degli altri anni di serie C forse tipo quando si era in eccellenza in serie D ma il pubblico quest'anno c'è stato quindi mi aspetto una cornice ancora più bella un tifo caloroso lasciamo da parte le critiche i bilanci come ha detto il sindaco oggi si fanno a fine stagione e pensiamo a sorreggere i ragazzi dal punto di vista tecnico è chiaro che Denis l'importante è vincere o si giochi bene o si giochi male siamo arrivati a un punto tale che non mi serve più giocare bene mi serve vincere 1-0 con un'autorete calcio di rigore l'importante è vincere un po' come ha detto ieri Allegri che cosa ha detto la squadra per andare a segnare di attaccare di correre verso la posta avversaria quindi diciamo ma Allegri doveva vincere la semplice di Coppa perché deve aveva bisogno dei tre punti di questi punti per aspirare ad andare in finale è la stessa cosa la Virtus bisogna vincere in qualsiasi maniera direttore è fattibile l'abbiamo sentito nella scheda prima un mini tra virgolette obiettivo 9 punti nelle ultime 12 è un obiettivo no dico è un obiettivo che vi siete magari prefissato un tot di punti assolutamente no il massimo dei punti poi come dire ognuno guarda se guarda indietro capisce che ci sono delle difficoltà ma il mio augurio è recuperare tutti quanti tutti quanti disponibili e cercare insieme di ottenere il più possibile perché sanno perfettamente anche loro che abbiamo soltanto sei punti di distacco dal monopoli dietro c'è un interno ognuno conosce la situazione il problema è se non conoscessero le regole invece ho avuto riprova che conoscono perfettamente il regolamento che non retrocede soltanto l'ultima e neanche la penulta soltanto la penulta e quindi detto questo il pericolo è in ognuno di noi e in funzione di questo io mi ci adeguo alla situazione cerco di dare di più di essere più attento questi sono i buoni propositi della settimana poi la domenica ci auguriamo che succeda quello che tutti desideriamo io colgo l'occasione anche per dire un'altra cosa che è un messaggio che ci tengo qualcuno che lavora nel Francavilla non faccio nomi qualcuno che lavora nel Francavilla però io quando sono stato al campo una delle ultime volte per una conferenza stampa mi ha detto ai giocatori abbiamo detto anche che loro se retrocedono vanno via noi rimaniamo qua o alcuni questa è una salvezza importante non solo per i meriti sportivi per i risultati sportivi ma anche per chi nel Francavilla ci lavora tutti i giorni io devo dire la verità direttore probabilmente tu potrai confermarmelo anzi lei potrà confermarmelo tu 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 va bene tu il vicepresidente Donatiello nelle ultime settimane è un po' crollato no? anche emotivamente pure lui amichevolmente lo chiamo Tonino Tonino è il Francavilla vive quindi guardando il suo modo di vivere la quotidianità capisco che significa essere appassionati del Francavilla mi emoziona parlare di una persona che ho conosciuto quest'anno ma che ha dei valori importanti per lui il Francavilla è tanto per il presidente il Francavilla è tanto nomino Rocco nomino Giuseppe nomino tutto lo staff i massaggiatori c'è tanta bella gente ho conosciuto tanti tifosi non ricordo tanti nomi ma ho avuto modo di palpare di toccare con mano la passione il tifo è evidente che l'obiettivo mio e dei ragazzi è quello di far sì di mantenere questa categoria perché lo merita e perché ci sono i presupposti ci sono le basi per poter ripartire con un progetto fatto in maniera diversa condiviso con la proprietà c'è uno stadio che adesso tutti ci invidiano c'è una struttura che aiuta altri a poterci raggiungere ci auguriamo tutti quanti veramente che la salvezza sia come dire la felice conclusione di questo campionato e anche perché poi c'è comunque anche una storia il settore giovanile da proteggere tutte queste cose qui il settore giovanile che io vedo quotidianamente lavorare 550 ragazzi ho sentito quindi c'è un movimento importantissimo ho avuto modo di dedicarmi poco purtroppo a loro ma quelle volte che lo faccio ci sono ragazzi interessanti uno l'ho individuato non faccio nome e cognome ovviamente che mi piacerebbe il prossimo anno eventualmente che lui possa salire in prima squadra ecco c'è una progettualità in quello che si fa a Francavilla capita l'annata sbagliata i responsabili alla fine dell'anno verranno come dire individuati è evidente che ci saranno delle responsabilità ma in questo momento qua bisogna di fare Francavilla direttore non voglio mettere il dito nella piaga ma le percentuali di queste responsabilità quante alla squadra quante agli allenatori ci sono stati quante alla società ci sono responsabilità non capisco il criterio con il quale come dire additare un tot di percentuali ci sono responsabilità al termine verranno fuori ci sono nomi e cognome in ogni come dire in tutta in tutto l'organigramma è evidente responsabile non è uno solo sì per chiudere la puntata Antonio ci scrive se siete veri professionisti dimostratelo domenica non ci sono scuse partita insomma abbiamo detto da vincere direttore grazie per essere stato con noi in questa serata faticosissima per me perché ho dovuto leggere 627 messaggi grazie però faticosissimo assolutamente no grazie comunque per aver specificato messo i puntini su tante cose anche sulla questione infortunati che non è di poco conto è l'aspetto che più mi preme sottolineare e su cui stiamo ponendo maggiore attenzione perché di lì magari possono arrivare delle risorse utili in questo finale di campionato che fino ad oggi non abbiamo avuto o il mister non ha avuto modo di poter utilizzare poi a fine stagione ci rivediamo per fare un bilancio assolutamente sì grazie grazie a voi grazie a Renato Rubino del nuovo quotidiano di Puglia mercoledì prossimo sempre in diretta torna Passione Bianca Azzurra alle ore 21 buon proseguimento sui canali di Antenna Sud grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti